Ciao Pino, sono Geppo e sono un ragazzomo omosessuale, al di là dei miei gusti musicali vorrei chiederti cosa ne pensi dei pregiudizi sui ragazzi come me, grazie, sei forte, Geppo I pregiudizi Geppo, i pregiudizi sono solo ignoranza, il razzismo è solo paura, è solo paura non esistono, non esistono pregiudizi su queste cose, non esistono l'importante nella vita è non far male agli altri, l'importante è essere se stessi, a tutti i costi, sempre e tu probabilmente per essere te stesso devi impegnarti 50 volte più degli altri sei fiero di te